La plastica ha veramente rivoluzionato le nostre vite, ma ha anche creato un inquinamento difficilmente arrestabile. Di tutti i rifiuti che produciamo, bicchieri e bottiglie di plastica sono probabilmente il vero simbolo della nostra società usa e getta, ma negli anni sono aumentate le azioni a tutela dell'ambiente e quindi anche per una corretta raccolta della plastica e così sono iniziati a comparire i primi comuni plastic free, un obiettivo che da un po' di tempo persegue anche l'amministrazione comunale di Vibonati, il punto del consigliere Borrelli. Abbiamo installato nei giorni scorsi, è entrato in funzione questo ecocompattatore per la plastica, un'opportunità per tutti di poter conferire in questo ecocompattatore le bottiglie di plastica e di poter usufruire di determinati vantaggi o sconti. Stiamo per installare queste famose compostiere di comunità che ci sono state date, fornite dalla regione Campania e saranno collocate nei pressi del campo sportivo di Vibonati, quindi a metà strada in un posto facilmente raggiungibile per tutti i cittadini del nostro comune e stiamo anche sempre in una logica di riduzione della quantità di plastica prodotta sul territorio, stiamo installando a Vibonati la casa dell'acqua. Intanto la spiaggia antistante e lungomare è stata liberata dai rifiuti, dai volontari che hanno preso parte alla recente giornata ecologica. Tanta la spazzatura raccolta dai paladini dell'ambiente a testimonianza della troppa inciviltà che ancora vige nella nostra società.